Allora qui abbiamo una squadra invece da 3.700, mi faranno male, quasi sicuramente, però vediamo se riesco almeno a far fuori il centrale in modo da poter aiutare gli altri. Sabina che era il mio dispeller l'ho già utilizzato per cui Ciprian qui mi farà male, rimarranno poi un sacco di guaritori. Vediamo un attimino come va, qua mi dà una formazione automatica che non va bene perché il centrale loro è blu, quindi devo andare con i verdi. In questo caso non metto i verdi più forti che ho, me ne tengo qualcuno per dopo, però prendo gli Anna, Verden e un Fratac per essere un po' più contenti. E siccome c'è il solito biscione verde dall'altra parte, vedo che rosso posso aggiungermi e io direi un Boltask che come guaritore mi aumenta anche l'attacco. Allora vi faccio vedere il nemico, il nemico è un 3.700 e io gli sto andando contro con una squadra da 3.037, per cui 9 su 10 mi farà male, parecchio male fra l'altro. Però se riesco a tirargli giù, quantomeno il centrale al volo, chi arriverà dopo di me sarà facilitato, indipendentemente dal livello che può avere. Tentiamo e vediamo come va. Allora, 3 verdi in fila e metà della vita del centrale è già andata. Il problema è che ho una tavola che fa schifo, per cui più di tanto non riesco a fare. Però, oi boh, allora il kashrek subito cominciasse a prendere un po' fuoco, non mi dispiacerebbe. E intanto riesco a fare un diamante verde. Il centrale è andato, adesso devo decidere chi di questi mi dà più fastidio. Io direi che cominciamo con kashrek e finiamo di ucciderlo. Ho un diamante, lo faccio partire, bisogna stare attenti a Ciprian, vediamo se riesco a uccidere Ciprian al volo. E Ciprian è andato. Quindi a questo punto sparo rossi nel vuoto per caricare anche l'oro. Faccio andare il diamante perché al momento non sono in pericolo di attacco da parte degli altri. Adesso gli aumenta la difesa, giustamente. E ora devo stare attenta perché ho la signora Scarlet pronta a farmi male e Vivica a guarirsi. Ho la possibilità di fare un diamante e la prendo per il semplice fatto che poi mi libererò la tavola. Ok, non sono sopravvissuti. Vediamo se riusciamo a... Ok, e adesso ci possiamo concentrare su Vivica. Ci vorrà un po' di pazienza perché è una guaritrice e io ne ho uno solo. Fra l'altro rosso, non ci sono grandi tessere rosse qui sul tavolo. Però posso ricaricarmi i verdi. Quindi, perfetto. Quindi, poltasca che abbiamo usato. Ecco fatto. Allora, con una squadra da 3.000 punti ne ho buttata giù una da 3.007. Ho guadagnato 123 punti per l'alleanza con una squadra nettamente inferiore rispetto a quella che stava attaccando. Lo scopo sostanzialmente è quello di fare diamanti, di liberarsi, anche se non sono diamanti di colori degli eroi che abbiamo, in maniera da liberare la tavola. Luletta continua a chiamare la tavola, ma è il tabellone. E nel caso vada male, comunque, si tira giù il centrale o si tira giù un eroe molto fastidioso in modo da poter aiutare gli altri a guadagnare punti. Lo scopo non è mai quello di essere i primi in guerra, così come essere i primi col titano, perché arrivare ai primi non è che siano premi più belli. I premi sono random e quelli del baule sono più o meno uguali per tutti. Lo scopo è quello di portare avanti l'alleanza tutti insieme, indipendentemente dal punteggio individuale. E per oggi ho finito di rompervi le valle. Ciao!